Sono contento di conoscere un giapponese e di ospitarlo in una intervista per la nostra rivista. Io mi chiamo Renato D'Apero e sono il direttore di questa rivista. Qual è il valore della vita e in particolare dell'anziano nella cultura giapponese? La ringrazio per questa opportunità che mi ha offerto, per l'opportunità di poter trattare temi tanto importanti come quelli che sono stati citati perché in Giappone così come in Italia l'invecchiamento della popolazione sta procedendo a passo sempre più rapido ed è nostra responsabilità farci carico quindi di questi temi e condividerli con il resto del mondo, condividere e scambiare le nostre esperienze con il resto del mondo per riuscire ad affrontare questi continui cambiamenti. Il modo in cui gli anziani vengono trattati, quindi considerati, gestiti nella società giapponese è veramente la norma, la normalità nell'ambito della società e questo accade è solo nei paesi sviluppati, industrializzati che hanno una cultura matura, una cultura sensibile in cui gli anziani possano ricevere il rispetto dovuto dagli altri. L'invecchiamento non comporta problemi che sono legati all'aspetto finanziario, economico ma questa norma come lui la definisce sociale del rispetto verso l'anziano è più importante e più profonda ma oltre all'aspetto puramente economico. Tuttavia se la pressione economica e finanziaria si fa insostenibile per la società si rischia che l'anziano appunto venga identificato come poco significativo o comunque diventi la ragione per cui si sprecano risorse sociali, risorse economiche. In Giappone siamo molto orgogliosi, lo sottolineava ieri durante il convegno del nostro senso di solidarietà, solidarietà proprio umana nei confronti del prossimo, quindi la capacità di sostenerci reciprocamente e come esempio di questa solidarietà portata all'estremo viene citato il caso della ballata di Narayama in cui si narra la storia di un villaggio estremamente povero in cui i mezzi di sostistenza persino venivano a mancare, quindi non c'era il cibo sufficiente per sfamare i figli e in cui un anziano a simboleggiare appunto questo senno di solidarietà chiede l'aiuto dei giovani nonostante tutto per andare a morire, andare a morire sulle montagne e i giovani appunto comunque lo sostengono, lo portano, gli dice questo significato è noto a tutti in Giappone perché è appunto una storia portata all'estremo di sacrificio e di suicidio, però simboleggia anche la capacità di sostenersi anche in un momento così estremo e così critico come la decisione della morte. Io ritengo che anche in futuro la società giapponese continuerà a sposare la causa della solidarietà e identificarsi nella solidarietà, ma visto l'invecchiamento della popolazione sostenere una causa così importante diventerà sempre più problematico se si vogliono mantenere gli stessi livelli di vita, standard di vita che abbiamo attualmente e che sono particolarmente elevati, quindi sarà una vera e propria sfida. Il tasso di invecchiamento, se la percentuale di persone che hanno 65 anni o più è pari attualmente al quasi 26%, 25,6%. Per tasso di fertilità totale, come definisce lui, si intende il numero di figli che una donna può avere e solo se questo tasso è superiore al 2, cioè al numero 2, si può ipotizzare un mantenimento del pareggiamento della popolazione, diversamente una riduzione. Ovviamente anche l'aspettativa di vita si allunga sempre di più, 80 anni circa per gli uomini e 86 per le donne, ovviamente nonostante una maggiore longevità subentrano le malattie e alcune che causa di morte, ma sempre più spesso le condizioni croniche, quindi che hanno richiedono un trattamento a lungo termine ma non portano necessariamente a una morte a breve termine. Noi abbiamo anche il fenomeno dell'immigrazione rispetto alla popolazione, in Giappone esiste anche lì un po' di immigrazione da altri popoli? Le cause dell'invecchiamento sempre progressivo della popolazione sono chiare, da un lato una maggiore aspettativa di vita, quindi le persone vivono sempre più lungo, dall'altro un tasso di fertilità sempre inferiore, quindi meno bambini pro capite. Poi si aggiunge il fenomeno immigrazione che invece il governo giapponese contrasta, non accetta con facilità. Credo tuttavia che il problema immigrazione dovrà essere dibattuto nel prossimo futuro e sicuramente saremo pronti ad accettare l'immigrazione solo se da un punto di vista sociale introdurremo una riforma, una ristrutturazione della nostra attuale struttura, appunto perché serviranno nuove politiche sull'istruzione, per la formazione di queste persone e così via, diversamente è molto difficile. Se guardate questa slide potete vedere riassunte le cause dell'invecchiamento. In Italia l'immigrazione ha un peso rilevante, così per informazione, il tasso di fertilità è molto basso anche in Italia e nelle scuole italiane abbiamo una percentuale di bambini stranieri elevata. Ci sono effettivamente problemi di educazione e di formazione, quindi se il fenomeno toccherà anche il Giappone, sicuramente che il Giappone lo dovrà fare, ma mi sembra di capire dalla sua risposta precedente che questo già ben noto al vostro governo e quando sarà necessario lo farete? Sì, il governo giapponese è sicuramente consapevole di questa situazione e si è posto come obiettivo, anche se non sono stati specificati i tempi, il raggiungimento di un tasso di fertilità di almeno il 2% in modo da mantenere costante la popolazione. Anche perché ci si è resi conto che la mancanza di natalità comporta un costo per la società, nel senso che sono stati stimati, quello che potrebbe essere il reddito di una donna media nel corso di una vita è stato stimato pari ai 2 milioni di dollari statunitensi, se una donna interrompe obbligatoriamente la propria carriera a seguito di una gravidanza il suo reddito crolla precipitosamente a circa 500 mila, quindi c'è proprio uno scompenso anche finanziario, economico. Un'altra possibile soluzione per aumentare la fertilità è quello di invece consentire l'immigrazione perché l'accesso di nuovi cittadini fa sì anche che aumenti il numero dei nuovi nati e consente in un certo senso anche alle donne di poter svolgere mansioni lavorative che magari non sono più quelle precedenti ma possono essere anche part time, in un ristorante o come donne di servizi o comunque poter continuare ad avere un reddito più significativo. È stato detto che il governo si contrappone o addirittura vieta l'immigrazione ma ci sono dovute eccezioni, le eccezioni possono essere rappresentate da persone estremamente benestanti che portano ricchezza oppure da persone estremamente qualificate. Il problema non sono queste qualifiche ma è invece consentire l'immigrazione di persone non qualificate. Se ci sono degli uomini da fare estremamente talentuosi sono i benvenuti in Giappone. Per tornare brevemente alla storia citata in presidenza del suicidio eccetera, ecco quella era stata citata solamente perché è ormai inaccettabile, cioè si trattava in una società molto semplice in cui mancavano appunto i mezzi di sussistenza ma nella quale cionostante la solidarietà era il valore principale. Allo stesso tempo era una società in cui si ammetteva il suicidio proprio per solidarietà. Ecco, questa situazione non sarebbe più accettabile oggi. Come detto in precedenza la solidarietà ha sempre un posto di primo piano e se vogliamo far fronte al problema del invecchiamento della popolazione mantenendo quegli elevati standard di vita che contraddistinguono il Giappone dobbiamo, come già detto, pensare a una ristrutturazione della nostra società. C'è stato un avvicendamento di primi ministri che fa sì che oggi si possa sperare veramente all'apertura al cambiamento e veramente a una ristrutturazione sociale. Visto il problema dell'invecchiamento delle lecce di cui abbiamo già parlato, che provvedimenti legislativi, se ci sono stati, lo Stato o le regioni, l'equivalente delle nostre regioni in Giappone, ha preso se ci sono delle leggi che riguardano questo problema? Perché senza una legislazione è difficile che si possa immaginare una solidarietà diffusa. Il problema ha cambiato un po' l'aspetto, quindi lo Stato dovrà intervenire. La solidarietà ovviamente rimane un concetto in quanto tale. Tuttavia, sì, sono numerosi gli esempi che si potrebbero citare che ci danno l'idea di quanto in realtà la legge cerchi di dare concretezza alla solidarietà. Per cui, forse il più semplice, ma allo stesso tempo il più pregnante, è il proprio sistema previdenziale, assicurativo, con cui si fa fronte alla spesa sanitaria. E, diciamo, la spesa di ciascun cittadino varia in funzione dell'età e in funzione del reddito. Ossia, più si è giovani, più si contribuisce economicamente e più si è anziani, meno invece si contribuisce, proprio tenendo anche in considerazione del reddito, che cala una volta in pensione e così via. Un altro esempio importante è quello dell'assistenza a lungo termine, la long time care, esatto, che in Giappone è stata introdotta nel 2000 e che ha cercato proprio di far fronte a quelle che sono le principali caratteristiche dell'invecchiamento, cioè un'elevata percentuale di patologie e anche una sempre più frequente presenza di invalidità o comunque di disabilità. Per contro, però, grazie alla legge, grazie a questo sistema, gli anziani che sono i più colpiti sono quelli che economicamente devono contribuire in maniera in percentuale minore e in proporzione appunto al loro reddito, in modo da poter sempre meglio far fronte alle maggiori disabilità, alle più frequenti disabilità tra gli anziani. Qui si vede la ripartizione dei fondi che vanno a favore dell'LTC, del long time care e in questa sezione si vede la parte che è dovuta dagli, chiamiamoli utenti, ma in realtà coloro che sono ancora a forza produttiva, insomma i lavoratori. È stato detto che il contributo che ciascun cittadino deve versare varia in funzione dell'età e quindi del reddito, per cui inevitabilmente, essendo la popolazione sempre più anziana, la parte dei contribuenti sarebbe fisiologicamente diminuita, per cui lo Stato per contro contribuisce con la tassazione, ecco, che ovviamente va a compensare, esatto, sui giovani, esatto, che va a compensare la parte che sarebbe mancata. La cura è prevalentemente domiciliare oppure ci sono case dove lo Stato, organizzate dallo Stato, dall'ente pubblico per la vita, per la sopravvivenza di queste persone, o se invece le case, ammesso che ce ne siano di case per anziani, sono gestite dai privati e lo Stato dà delle contribuzioni. Com'è distribuito questo problema? Spesso il prezzo effettivo pagato dall'utente è inferiore al costo, grazie all'intervento di questo tipo dello Stato, per cui il rischio è quello di un utilizzo eccessivo, quindi si introducono comunque dei piccoli costi che l'utente deve pagare, un po' come il nostro ticket, suppongo, in modo che l'utente abbia un deterrente e non usufruisca eccessivamente. Chiaramente è rapportata alla metà del governo, le cifre diventano astronomiche, per il singolo utilizzatore è meno, però qualmente è sufficiente per scoraggiare un uso non corretto. Abbiamo il settore pubblico, il settore non profit e il settore non profit. Le tipologie sono tre, abbiamo il servizio pubblico, quindi statale, abbiamo il servizio che lui definisce non profit, quindi comunque volontario o comunque non a scopo di lucro, e invece il settore privato, cioè a scopo di lucro. Le cure mediche nella loro globalità sono pubbliche, pubbliche o non profit, quindi di tipo volontario, assistenziale, eccetera. Si sta sperimentando adesso il ricorso a invece provider di tipo privato nell'assistenza a lungo termine e si vedrà quali sono i risultati. Lui dice che potrebbero anche non essere necessariamente positivi, potrebbero avere un impatto negativo, però si vuole vedere se riescono a contribuire. C'è da dire che le tasse sono come da noi, in sostanza, sia sul reddito che sul patrimonio immobiliare e quelle che incidono di più però sono su quelle sul reddito che variano dal 10 al 20%, dal 10 al 20% se ovviamente il reddito in quanto pensionati diminuisce, diminuisce la contribuzione, mentre quelle sul patrimonio, lui parla solo di patrimonio immobiliare, sono dell'ordine dello 0,2-0,3%. C'è una differenza rispetto per esempio all'Unione Europea, cioè il minimo contributivo, il minimo dal quale si può cominciare a poter pensare a una tassazione è superiore rispetto ai paesi dell'Unione Europea, per cui un nucleo familiare di 4 persone che abbia un reddito complessivo inferiore ai 20.000 dollari statunitensi non paga tasse. Poi, superato questa fascia, si comincia con l'aliquota del 10% e così via, si sale in base al reddito fino anche al 40% al governo nazionale e al 50% alle autorità locali, possono essere regionali, però non ha supposto il caso dell'evasione. In Giappone abbiamo tra le altre problematiche quello di garantire una maggiore competitività per le aziende e lo vogliamo cercare di ottenere riducendo le tasse sulle imprese. Primo punto. Secondo punto, per aumentare ulteriormente l'uguaglianza sociale, quindi per cercare di avere pari trattamenti per tutti i cittadini, visto che non si può incidere eccessivamente sugli anziani per il minor reddito che hanno, si è aumentata la percentuale dell'IVA, cioè le tasse sui consumi, che sono state portate di recente dal 5% all'8%. Sono molto contento del discorso che abbiamo fatto. Ho ancora una domanda perché tornerei su una questione. Quando lo Stato dà una contribuzione al cittadino per andare in una casa gestita da una cooperativa o da un privato, oltre a pagare lo Stato, si preoccupa anche di fare verifiche di qualità del servizio o lascia libertà di decisione ai cittadini e lascia competere tra i produttori di servizio? La domanda è mercato libero o mercato controllato e controllato per qualità dallo Stato? Il problema della fornitura dei servizi agli anziani, quindi della relativa qualità, è che spesso gli anziani non sono in grado di discriminare, non riescono a capire cos'è un prodotto, un servizio di qualità piuttosto che no. Con l'introduzione dell'LTC è stata introdotta anche una nuova figura professionale, quello che è il cosiddetto care manager, quindi potrebbe essere un responsabile dell'assistenza, della cura, la posizione solitamente è occupata o da assistenti sociali o da anche personale infermieristico che preventivamente valuta i bisogni del paziente in modo da poterlo indirizzare, prendere decisioni giuste in termini di assistenza richiesta, ma allo stesso tempo questa figura conduce anche, oltre a mettere appunto un programma di cura, di trattamento, conduce anche veri e propri controlli nel processo, durante il processo di cura. Quello che abbiamo sentito prima, insomma, quindi controlli, questa nuova figura che fa i piani di trattamento, eccetera, è quello che assicura la qualità dalla parte dell'utente. Per quello che riguarda l'iniziativa invece statale, ovviamente ci sono differenze a livello di strutture che siano spedaliere, che siano private, però vengono condotti degli audit almeno su base annuale da parte delle autorità statali o regionali o provinciali, però almeno con una frequenza minima annuale. Si segue anche un programma, comunque un sistema di accreditamento per cui gli ospedali o le cliniche devono essere riconosciuti e quindi accreditate presso l'autorità competente, esatto, per mantenere un livello uniforme elevato. Particolare, le strutture LTC hanno uno schema di accreditamento loro dedicato, cioè a parte particolare, specifico. Io vorrei concludere, perché è l'obligatorio di tutto il tempo che ci ha dato. Posso dire conclusivamente che molte delle cose che ha detto il nostro graditissimo dottor Agawa sono in parte uguali a quello che facciamo in Italia, molta analogia ho visto, un modo molto simile di ragionare, almeno con quanti di noi si occupano di questo problema. Una cosa mi lascia un pochino felice per i giapponesi e un po' in difficoltà per noi, la loro tassazione e il loro modo di ripartire i costi. in Italia sarebbe un sogno se potessimo avere l'IVA all'8% e con l'IVA all'8% potessimo garantire un long term care valido, sarebbe un sogno. Ecco, questo glielo diamo come ringraziamento della sua intervista. Volevo solo concludere con un augurio ovviamente di rimanere in questa situazione, ma se ci sarà bisogno, visto come sono oggi messi dal punto di vista finanziario, hanno ancora un grande spazio di credito per poter garantire la qualità, visto che noi lo facciamo col 40 sull'IRPEF e con il 22 sull'IVA.